No, io comunque, oggi è stato riconosciuto dalla critica internazionale che abbiamo detto Immagini Come parola più usata Però, secondo me, noi immaginiamo un po' troppo La vita e l'uomo che si può vedere, dunque, sulla vera situazione Bene, ok, ciao Ciao Cama nonna, porco di... Che sta succedendo? Un peduino di merda, roba di Dio, sei uno stronzo Che sta succedendo? Non ammazzo quel gay di mezzo Che sta succedendo? Non ci fanno entrare, mannaggia Ma cosa? Al peggio, che cazzo ne so Possa morire, roba di Dio, sei uno stronzo, sto bene Dio, c***o, muore, suicida Però io, c***o, muore, suicida Però io, c***o, c***o, muore Questo è un mister, dice, guarda, guarda quei tre stronzi Mi pento di avergli fatto tanto male, adesso mi suicido Dio, c***o, muore, Dio C***o, muore, Dio C***o, muore Oh, voglio chiamare quella... No, non la chiamo Quella troglia di mezzo C***o, non la chiamo C***o, dove sta? C***o, mi sta parlando al telefono Non me ne vuole inviare Ah, ok, allora... Non mi viene Allora, cari amici Ciò che è successo è una situazione abbastanza problematica Perché ci sono stati consegnati i biglietti alla giornalista della RAI Che alloggia appunto nel hotel di fronte di Majestic Comunque lei ci ha detto Che possiamo incontrarci qui sotto con lei alle nove e mezza Per poi entrare nella sala alla metà di nove Solo che noi avevamo intenzione di assistere alla scalinata di Robert sul tappeto rosso Ma non ci è permesso Poiché noi dobbiamo entrare prima in sala in quanto pubblico E lui in quanto cast, crew, film Entra dopo Dopo le varie marche, cosiddette marche E quindi il nostro scopo principale è di incontrare o lui o Bruce O tutti e due insieme O tutti e due insieme Servizio e C***o perché due piccioni con una fava Poi... E quindi? E quindi, porco Dio e camadonna E quindi, per favore Grazie 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 Would you please take your seats? Please do not use your mobile telephones during the performance. The screening is about to begin. I'm at another level that I want to clear. My skin feels like orange peel. My eyes have been vacuum sealed. My organs move like a squirm of eels. We should be more adventurous with our meals. They annoy me. They'll sue employ me. They could destroy me. They should enjoy me. We eat Chinese off our knees. I look for each other in the TV screen. It's as I am at the moment. We'll soon die. But I won't be here. Oh, I'll still be here. Oh, yeah. The sun goes out there. The sun goes down. And I throw myself into the town. All I do, I wanna do. Every day, every day, every day. Every day, every day, every day. All I do, I wanna do. Every day, every day. Every day, 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 every day, every day. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che grande, un mito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.